Non ne potrete più di me, però questa sera ho deciso di portarvi un argomento completamente nuovo. Ho pensato, l'anno scorso abbiamo parlato di evoluzione umana, quindi abbiamo parlato del passato profondo, abbiamo parlato di migrazioni, appunto, di uscita dall'Africa. E ho pensato questa sera invece di portarvi qualcosa di totalmente inedito, di cui stiamo parlando noi scienziati da soltanto pochi anni a questa parte. Tra l'altro si viene Barbara Mazzolai, sono molto contento perché forse lavoreremo anche insieme a dei progetti sui robot rampicanti che già studiava Darwin. Io vi parlo questa sera di genetica e ho un compito difficile perché sono argomenti un po' difficili, un po' tecnici, ma io cercherò di semplificarli il più possibile, diversamente me lo dite, mi fermate. E poi devo cercare di non angosciarvi troppo perché il tema di questa sera ha anche degli aspetti etici molto importanti, di bioetica. Io ci tengo a parlare di questo, ormai lo sto portando in giro un po' in tutta Italia negli ultimi mesi, perché dobbiamo saperlo, dobbiamo conoscerlo. Noi che ci occupiamo di questi temi abbiamo il dovere civile di raccontarvelo in modo trasparente, di modo che quando sui giornali sentirete, e succederà tra pochi mesi penso, di qualche nuova invenzione, applicazione biotecnologica, la conosciate, la sappiate, non vi spaventiate, ma si possa decidere insieme che cosa fare e che cosa non fare. Ho scelto un titolo abbastanza provocatorio, riscrivere il DNA, il futuro è arrivato. Il futuro è arrivato perché molto di ciò di cui vi parlerò questa sera è stato previsto da scrittori di fantascienza, da visionari dieci, vent'anni fa o trent'anni fa, e adesso è successo. È successo in modo abbastanza inaspettato e ha una serie di implicazioni molto importanti. Tra l'altro, anche se non ci sarà dibattito alla fine, io voglio farvi votare a un certo punto, perché a me mi interessa molto sapere come la pensate su alcune questioni, vi farò vedere, vi decideremo insieme se siete d'accordo o meno su certe applicazioni di queste tecnologie. Allora, innanzitutto, in pochi minuti, vi spiego di che si tratta, in modo che tutti partiamo da un minimo di conoscenza di quello che è successo. Questa è una sigla un po' difficile, ma ne sentirete sempre più parlare, CRISPR. Diciamo che il termine di cui sentirete molto parlare è gene editing. Che cos'è? Allora, guardate, questa è una copertina recente di Economist, che è una importantissima rivista a livello internazionale, dove vedete che dice ormai abbiamo acquisito le tecnologie per editare l'umanità. Editare in inglese sarebbe come in italiano quello che voi fate quando usate il programma di Word, del computer, no? Correggete le bozze, vuol dire correggere le bozze, praticamente. Quindi voi sostituite una parola, la correggete, la modificate, tagliate una frase, ne mettete dentro un'altra. Quello è l'editing. Bene, adesso abbiamo imparato a fare questo con il nostro DNA, con il nostro codice genetico. Anche quello ereditario. E quindi abbiamo fatto una scoperta, hanno fatto una scoperta molto importante. Qui vedete la copertina di Nature, dove annunciava questa scoperta. Allora, risale a qualche anno fa, però in realtà la sua applicazione l'abbiamo compresa soltanto da circa due, tre, quattro anni al massimo a questa parte. Quindi stiamo parlando veramente della frontiera della ricerca. Per farla semplice, che cosa è successo? Che qualche anno fa, e questo la dice lunga su come funziona la scienza tra l'altro, alcuni miei colleghi microbiologi, quelli che studiano batteri, virus, microorganismi, stavano facendo una ricerca che non c'entra niente poi con quello che hanno scoperto. Questa è la serendipità della ricerca scientifica. Tu a volte studi qualcosa e ti accorgi di scoprire qualcosa che non ti aspettavi assolutamente, che non stavi cercando, no? Si chiama serendipità. Questi miei colleghi stavano studiando in particolare il modo con cui i batteri si difendono dai virus, dai fagi in particolare, cioè come attivano delle difese immunitarie in modo da memorizzare l'attacco dei virus e rispingerli all'attacco successivo. E scoprono, questi miei colleghi, che i batteri hanno inventato, miliardi di anni fa, quindi una cosa loro che hanno inventato loro, una forbice molecolare si chiama, cioè praticamente è un sistema per cui il batterio riesce a mandare questo macchinario, questa forbice nel DNA del virus, a staccargli un pezzo, a inglobarlo e usarlo come memoria per gli attacchi successivi. Quindi è praticamente un sistema che va nel DNA del nemico, in questo caso dell'altro, va nel punto che vuoi, quindi con una guida, stacca e si porta via una sequenza di DNA, una forbice molecolare si dice. Che cosa si è scoperto qualche anno fa? che questa forbice molecolare si può applicare anche a noi, si può applicare anche alle nostre cellule, si può, come dire, ottenere uno strumento per cui tu entri dentro il DNA delle nostre cellule e fai il copia e incolla, fai l'editing del DNA. Ora, voi avrete sentito parlare sicuramente di ingegneria genetica, se ne parlano da tanti anni, di OGM, come funzionavano gli OGM, e uso il passato perché ormai con queste nuove tecnologie stanno per diventare preistoria tra poco, con gli OGM, si chiamavano organismi transgenici perché io prendevo delle sequenze genetiche di un'altra varietà, per esempio di pianta, e la inserivo dentro un'altra pianta, in modo da ottenere certe caratteristiche che volevo modificare in una pianta, per esempio coltivata, per renderla, che ne so, più resistente alla siccità. Qui invece non c'è nessuna inserzione di sequenze esterne, ma faccio entrare dentro il DNA questa forbice molecolare, qui le vedete un po' come è fatta, ma io non voglio assolutamente entrare dentro i dettagli tecnici, però diciamo che è un grande enzima, che si chiama Cas9, dentro questo enzima c'è una guida, proprio una guida, cioè un pezzo di RNA praticamente, che serve per andare nel punto esatto che vuoi tu nel DNA. Lui va, obbedisce, arriva nel punto che vuoi tu, e se poi tu gli metti dentro, per esempio, un pezzo di DNA, lui cosa fa? Toglie quello che tu vuoi e gli mette dentro quello che vuoi tu. Praticamente con questo gene editing noi possiamo fare tutte le cose che vedete scritte qua. Possiamo disattivare un gene che vogliamo, per esempio possiamo in un animale togliere un gene e vedere che effetto fa, questo si usa a livello sperimentale. Possiamo correggere la coppia di un gene mutante con una versione diversa, non so, voi avete scoperto che, che ne so, la thalassemia beta, una malattia di origine genetica, è dovuta a una mutazione su un gene, che voi conoscete bene, sapete dov'è, in quale cromosoma è, bene, allora prendete Cas9, gli mettete sulla guida RNA che gli dice vai lì, gli mettete sulla coppia sana del gene, lui cosa fa? Va là, stacca il gene malato e gli mette dentro il gene sano, fa il copia e incolla. Non mi sto più muovendo, quindi non vorrei essere io, forse, vediamo se funziona questo, sono un gracchia. Com'è? Sì, forse è un po' più forte questo. Ok, allora, quindi vedete che il copia e incolla che vi dicevo prima del programma di Word funziona, poi lo potete fare con intere frasi, intere pezzi, quindi diversi geni, e poi una cosa che prima non si poteva fare, potete mettere dentro quella guida e farlo andare in punti diversi del DNA, quindi a modificare geni diversi. Per esempio, noi sappiamo che ci sono malattie che sono dovute a mutazioni genetiche, non in un solo gene, ma in diversi geni. E allora lui, bello, preciso, obbediente, va e te li sostituisce tutti. È uno strumento potentissimo, riuscite a capirlo, è una rivoluzione biotecnologica. Noi filosofi della scienza usiamo la parola rivoluzione molto raramente, questa volta qui sì, è proprio una rivoluzione, perché cambia completamente il nostro modo di modificare il DNA. Quale DNA? Qui veniamo al primo punto. Il DNA di chi voglio? Delle piante, degli animali e naturalmente anche il DNA umano. Quindi, fioriranno un sacco di premi Nobel su questa scoperta, questa è una previsione abbastanza facile che posso fare, perché cambia tutto, cambia tutto il nostro modo di concepire l'ingegneria genetica. Questo non voglio entrare in questa noiosissima slide, voglio solo farvi vedere quante applicazioni sta già avendo questa tecnologia, che si chiama CRISPR-Cas9. Si possono fare, per esempio, già le stiamo facendo anche in Italia, a Milano, a San Raffaele sono molto forti, ma anche in altri posti in Italia, terapie geniche mirate, per esempio per i tumori, per i tumori infantili, per i tumori dei bambini, le leucemie. Cosa faccio io? Posso prendere le cellule del sistema immunitario, le cellule T per esempio, e modificarle geneticamente con questa tecnologia in modo che attacchino le cellule tumorali, in modo che vadano ad attaccare le cellule tumorali. Funziona molto bene, ci sono già delle sperimentazioni, già arrivate in campo umano. Posso modificare ovviamente le piante, posso modificare gli animali, posso farlo senza inserire sequenze estranee, cioè le posso modificare direttamente. Posso fare gli organoidi, che è una cosa visionaria, un po' come quella di Barbara Mazzolai di prima. Gli organoidi sono dei tessuti che io posso coltivare fuori dal mio corpo. Per esempio, io ho una malattia rara per la quale non ci sono ancora terapie. Allora cosa faccio? Non posso sperimentare direttamente su di me, no? Non sarebbe etico, non si può fare, non c'è tempo. Allora io, se per esempio ho una malattia dei reni, posso con queste modificazioni genetiche sviluppare fuori da me un tessuto del mio rene malato, sperimentare sul mio tessuto fuori dal corpo la terapia e quando funziona la applico su di me. Praticamente dei pezzi di ricambio modificati geneticamente sui quali posso intervenire. Questa è un'altra grande tecnologia del futuro. E poi posso fare biocombustibili, raffinerie per microrganismi che possono fare un po' quello che voglio io. Quindi questo solo per darvi un'idea delle applicazioni pazzesche che ha Quisper Cas9. Vi faccio notare una cosa, è una scoperta fatta da gente, microbiologi, che con due soldi, perché veramente non avevano fondi, hanno scoperto questa forbice molecolare. Ricerca pura. Questa scoperta è stata fatta perché qualcuno ha finanziato gente senza aspettarsi un'applicazione. Questo si chiama ricerca di base, no? Questo è il motivo per cui è importante finanziare la ricerca di base. Nessuno se lo aspettava, ma ancora una volta la ricerca di base ha portato una scoperta con delle applicazioni tecnologiche vastissime e pensate che adesso, leggevo l'ultimo dato, a Wall Street ci sono più di dieci grandi aziende, quotate in borsa a Wall Street, che di mestiere fanno CRISPR Cas9, cioè che usano queste biotecnologie. Quindi da una ricerca di base con due soldi sono venute fuori delle biotecnologie che oggi muovono il mercato azionario. Questo per darvi l'idea dell'impatto che ha anche questa tecnologia. Dietro questa tecnologia c'è una storia bella perché due delle quattro principali scopritori di questa tecnologia sono due donne, due scienziate straordinarie, le vedete qua. Guardatele bene perché saranno protagoniste del futuro della ricerca scientifica e sono due Nobel quasi sicuri. Sono l'Emmanuel Charpentier che lavora in Europa e Jennifer Doudna che lavora invece in California, a Berkeley. Preceduti da questi microbiologi meno noti che avevano cominciato a lavorare su questa forbice molecolare, ma loro sono quelle che hanno capito come applicarla alle cellule eucariotiche, cioè le cellule come le nostre. Poi ci sono altri due che si contendono la priorità della scoperta. Uno è giovanissimo, è quel Feng Zhang che vedete lì, che ha 39 anni, adesso è veramente giovanissimo, lavora al MIT di Boston ed è uno dei primi eppure che ha applicato questa tecnologia. E poi questo è il suo maestro, George Church, che è un visionario genetista, anche lui di Harvard, che vuole fare un sacco di cose, vuole risuscitare i mammuth con le biotecnologie, vuole fare un sacco di cose anche un po' assurde. Per darvi l'idea, questo è un articolo che è uscito su Nature, vedete, nel 2017, due anni fa, raccontava del fatto che ovviamente negli Stati Uniti adesso c'è una grande battaglia per avere i brevetti di queste tecnologie, perché immaginatevi quanti soldi vale un brevetto su una biotecnologia con applicazioni industriali di questo tipo. La questione è ancora aperta, non è stato deciso alcun brevetto, quindi al momento, per fortuna, tutti possono usare CRISPR-Cas9 senza pagare le royalties a nessuno. E tra l'altro CRISPR-Cas9, questa biotecnologia, costa molto poco, costa molto meno, ma di un ordine di scala che va da 10 a 100 volte meno delle biotecnologie precedenti. Io lavoro in un dipartimento di biologia e per email mi arrivano offerte di kit, un kit di CRISPR-Cas9, che ne so, per le piante, l'ultimo che mi è arrivato a 180 dollari, quindi se voglio io con 180 dollari ordino un kit di questa forbice molecolare e la applico come voglio, ovviamente devo avere un laboratorio. Quindi un sacco di interessi economici dietro, tant'è vero che per la prima volta nella storia della scienza, non era mai successo prima, un articolo come questo, che esce su Nature, quindi una rivista scientifica, il giorno è uscito, Nature esce nella settimana, una certa ora precisa, con una scadenza alla sera, il giorno dopo le azioni di queste aziende, guardate, il giorno successivo le azioni di Integlia, della Dudna e di CRISPR-Terapeutics sono diminuite ed hanno perso il 10% secco, perché loro sono gli avversari, mentre le azioni dell'azienda di Zang, dello spin-off di Zang, sono cresciute del 30%, spostando una grande quantità di denaro. E poi vedete come si vogliono bene, perché uno dei collaboratori della Dudna, il giorno dopo, dice congratulazioni per aver dimostrato una volta ancora che il cinismo, l'inganno e l'avidità vincono sempre. Quindi litigano, stanno litigando molto ferocemente questi vari gruppi per l'acquisizione del brevetto. Io vi dico già subito che secondo me questa è una disputa impossibile da risolvere, non è possibile brevettare una biotecnologia così vasta, l'unica cosa che si potrà fare è brevettare soltanto dei pezzettini, altrimenti non ci si potrà mai mettere d'accordo, troppi interessi insieme. Allora, perché questa tecnologia è così importante dobbiamo parlarne. Lo so che già ci state pensando avrete capito. Ha delle potenzialità fantastiche, positive, ovviamente, ma è una tecnologia così potente che volendo potremmo usarla per fare cose discutibili. E ve ne farò vedere due o tre di cose discutibili e poi ne parliamo insieme. Si sta diffondendo in modo rapidissimo, questo lo dice la stessa Dudna in questo articolo molto bello che è uscito su Nature. Subito qualcuno ha pensato improvvidamente, ve lo dico subito perché io sono totalmente contrario, diciamo, ma insomma questo conta poco, ha deciso di applicarlo sulla linea germinale umana, cioè sono già stati modificati degli embrioni umani con questa biotecnologia, con questo gene editing e purtroppo sono stati modificati anche degli embrioni umani impiantabili, quindi che volendo potevano poi essere impiantati e far nascere dei bambini geneticamente modificati. Non era mai successo prima questo. Non c'è stato ancora, dice la Dudna, giustamente un dibattito pubblico sufficiente e rischiamo di generare molte promesse e poi in generale a sua volta come effetto collaterale troppe delusioni. Quali sono i rischi? Usate queste mi sono rimaste in inglese ma la faccio semplice. Quali sono i rischi che noi non dobbiamo correre nel caso di biotecnologie come queste? Allora, innanzitutto, se noi decidiamo di intervenire per esempio su embrioni umani, come in almeno tre parti del mondo già si sta cercando di fare, è ovvio che un conto è se noi modifichiamo degli embrioni umani che poi verranno impiantati, quindi potranno svilupparsi e diventare dei bambini. Un conto è se noi modifichiamo delle caratteristiche genetiche che siamo sicuri che portano delle malattie redditarie gravissime. Penso alla dristofia muscolare per esempio, no? Maschile, è sul cromosoma X, sappiamo dov'è, sappiamo che per due terzi è di origine familiare, ma sappiamo che per un terzo sono mutazioni ex novo, si dice, cioè che vengono fuori nuove e quindi CRISPR-Cas9 potrebbe curare eventualmente questa malattia. Questo è un punto, e quindi fare nascere di bimbi che anziché avere quelle mutazioni noi le abbiamo sostituita e le abbiamo guariti da quella mutazione, quindi non si ammalano. Ma ovviamente possiamo applicare la stessa tecnologia anche per altre caratteristiche, molto meno legate a delle patologie, ma a delle caratteristiche fisiche, quindi migliorare la specie umana, come qualcuno ha detto. Lo vogliamo fare? Siamo pronti? Ce la sentiamo? Secondo punto, quindi il primo punto è dove passa il confine tra un intervento terapeutico e un intervento estetico, o di augmentation, si dice, cioè di miglioramento. Immaginatevi scenari del futuro che diventano a questo punto plausibili, tipo il doping genetico. Un atleta che si fa modificare le cellule, che ne so, delle fibre muscolari in modo da renderle molto più portanti, molto più potenti. È corretto? Sarebbe corretto? Mica tanto, giusto? E come facciamo a controllare questa cosa? Quindi bisogna che cominciamo a parlarne perché sta per diventare possibile, non è una cosa così futuribile. Run of evolution, che cosa vuol dire? Vuol dire che, pensate, c'è una cosa che quasi fa venire le vertigini. Con questa tecnologia noi per la prima volta abbiamo uno strumento per modificare l'evoluzione umana. La volta scorsa ho parlato del passato dell'evoluzione, questo è il futuro dell'evoluzione, perché quando io vado a modificare le cellule embrionali lavoro sulla linea germinale, cioè non sto lavorando sulle cellule del mio corpo, le cellule somatiche malate, per esempio, ma sto lavorando sulla linea degli spermatozoi e delle uova, cioè sto lavorando sulla linea che poi si tramanda. Quindi una modificazione che io faccio adesso sulla linea germinale si tramanda alla generazione successiva. Non era mai successo questo. Per la prima volta abbiamo uno strumento che può modificare direttamente l'evoluzione umana. Quindi, attenzione, molte cautele ovviamente. E poi il terzo punto importantissimo, tenetelo presente per gli esempi che vi farò tra poco, si chiama responsible use, cioè l'uso responsabile, che cosa stiamo manipolando noi? Cioè, quando noi alteriamo un pezzo del DNA e facciamo il copia e incolla come su Word? C'è una differenza fondamentale con Word, però, che mentre voi fate la correzione di bozze su un testo, quel testo voi lo conoscete tutto, lo potete leggere, noi tutto quanto, e poi lo modificate. Nel caso del DNA, invece, noi siamo ancora molti ignoranti su quel testo, ne conosciamo soltanto un pezzo qua e là. Ci mancano ancora un sacco di conoscenze sulle connessioni, per esempio, tra geni diversi. E quindi molti giustamente dicono, attenzione, perché se io vado a manipolare un sistema che conosco ancora poco, rischio di avere degli effetti collaterali non intenzionali, cioè che non riesco a controllare, e questo potrebbe essere pericoloso. Voi dite, bene, questo già è un tema che, vedete, si ponevano già nel 2015, hanno proposto una moratoria su questa tecnologia che non ha avuto successo, e guardate cosa è successo lo stesso anno e poi cosa è successo negli anni successivi. In Cina è stato annunciato già, vedete che dei scienziati cinesi hanno modificato degli embrioni umani, l'hanno già fatto quattro anni fa, e abbiamo verificato che è vero, lo hanno fatto veramente, hanno modificato degli embrioni umani non impiantabili, cioè che avevano delle modificazioni delle cromosomi del cariotipo per cui comunque non potevano essere impiantati, però lo hanno fatto. Questo articolo, questa ricerca, tanto per dirvi quanto è delicata la questione, non è stata pubblicata su Nature, benché in teoria l'avrebbe meritato per la sua importanza, per ragioni etiche. È una delle prime volte che io sappia che una ricerca scientifica non viene pubblicata su una rivista importante non perché non sia tecnicamente corretta, ma perché viene ritenuta dai direttori della rivista eticamente discutibile, quindi... e la rifiutano. Però ovviamente cos'è successo? Che dopo due settimane è uscito su un'altra rivista, perché la competizione della scienza funziona così, alla fine tutto diventa trasparente. E quindi è uscito dopo, vedete questi sono quelli di Nature che dicono è uscita questa ricerca, dovevamo pubblicarla noi, ma non l'abbiamo pubblicata per ragioni etiche, e queste sono le conclusioni paradossali di questa ricerca, che anche filosoficamente ci devono interrogare, no? Perché questo è un classico paradosso filosofico. Gli scienziati hanno fatto questo tentativo, hanno applicato questa tecnica agli embrioni umani e hanno visto che non funziona, che non è ancora adatta. Perché cosa hanno scoperto? Che per esempio hanno preso questi embrioni umani, li hanno curati da una malattia, la trassemia beta, ma che cosa è successo? Che quegli embrioni hanno sviluppato delle mutazioni genetiche da tutt'altra parte, che si chiamano off target mutation, cioè delle mutazioni fuori bersaglio. Questo perché? Perché questa forbice molecolare lavora su delle sequenze brevi e quindi può succedere che magari va, tu gli dici, vai tutte le volte, intervieni tutte le volte che trovi quella sequenza, lui va e corregge magari quella che interessa a te. Poi però può succedere che quella sequenza breve c'è anche da qualche altra parte nel genoma e lui tranquillo va e sostituisce anche da qualche altra parte, dove non dovrebbe. Quindi non è ancora matura come tecnica, non è ancora sufficientemente precisa. Quindi il paradosso cos'è? Ci abbiamo provato e abbiamo scoperto che non funziona, non provateci. Ma la conclusione non provateci ce l'abbiamo perché ci hanno provato. Giusto? E infatti cosa succede? Che due anni dopo altri gruppi cinesi, la Cina è molto, insomma, è un po' più liberale su queste cose, quindi alla fine escono in Cina queste cose, si è fatta la domanda ulteriore, hanno detto, e anche qua pensate al paradosso, hanno detto sì però non sarà che per caso quelle mutazioni off target sono venute fuori perché erano degli embrioni alterati, malati, con delle alterazioni molto gravi e quindi sarà per quello? E allora cosa facciamo? Proviamo la tecnica su degli embrioni sani. E quindi hanno provato la tecnica su degli embrioni umani impiantabili, sani. Questo è il risultato pubblicato nel 2017, anche questo rifiutato dalle riviste più importanti. Guardate cosa scrive l'editor della rivista, dice scusate abbiamo pubblicato questa scoperta, ci rendiamo conto che in molti paesi questa cosa è illegale, non si può fare, noi però abbiamo deciso di pubblicarla lo stesso perché pensiamo che sia sempre meglio sapere che non sapere e quindi la pubblichiamo e ve la facciamo conoscere. il risultato per la cronaca è lo stesso, cioè queste off target mutation ci sono anche negli embrioni sani, umani e quindi non era dovuto alle alterazioni del cariotipo ma ci sono comunque, quindi questa tecnica non si può ancora usare sugli embrioni umani, ma è solo una questione di tempo, nel senso che verrà resa ancora più precisa e prima o poi, più prima che poi, potrà essere utilizzata anche sugli embrioni umani. Sicuramente avrete sentito nel novembre scorso, quindi questa cosa non potevo raccontarvela l'anno scorso perché è uscita poco dopo, che questo ricercatore cinese, Heng Yang Kui, in un modo del tutto improprio, anomalo, ha annunciato, prima parlandone in un convegno scientifico a Hong Kong e poi su Facebook, cosa mai vista prima, una cosa inaudita, ha annunciato di avere fatto nascere due bambine, due gemelle, crispizzate, cioè geneticamente modificate. Ora questa cosa ha fatto il giro del mondo, qui Nature condanna senza appello questa cosa, vedete, biasimo internazionale unanime contro questo ricercatore, ancora adesso che è passato quasi un anno non sappiamo se lo ha fatto davvero o meno, nessuno ha visto queste bambine e nemmeno le autorità cinesi hanno ancora dato una risposta, sappiamo soltanto che è stato incarcerato per alcuni mesi, è stato radiato dalla sua università perché non aveva chiesto nemmeno il permesso al comitato etico della sua università per fare quello che dice di avere fatto, diciamo che sta passando dei brutti momenti con il partito comunista cinese e con il governo cinese e giustamente perché non ha rispettato nessuna delle regole fondamentali del metodo scientifico, queste cose se vuoi farle prima devi chiedere il permesso ai comitati etici, poi le devi prima di farlo pubblicarlo su una rivista, vedere la reazione della comunità scientifica, parlarne nei convegni scientifici e se poi tutto va bene e ti danno il permesso ci puoi provare, ma non esiste che ne parli in un convegno e poi lo metti su Facebook e non si sa bene che cosa hai fatto. Vi faccio però questo esempio perché ha fatto il giro del mondo, insomma ne hanno parlato un po' tutti, poi non si sa mai queste cose quando escono, nessuno segue più, sa come sono andate a finire, è andata a finire che ancora non sappiamo se lo ha fatto veramente. Io spero e tutti speriamo che non lo abbia fatto perché se lo ha fatto è, adesso non voglio usare paroloni, però insomma è estremamente irresponsabile perché significa avere fatto nascere delle bambine alle quali tu hai modificato un pezzo del DNA senza sapere tutti gli effetti collaterali che quella modificazione potrebbe aver avuto e sono effetti collaterali che potrebbero venire fuori subito ma potrebbero venire fuori nel corso di tutta la vita di quelle bambine e quindi diventano due bambine cavie da laboratorio, quindi è una cosa eticamente totalmente inaccettabile. Quindi diciamo che ci siamo andati molto vicini se non lo ha fatto a una tecnologia, a un'applicazione di questo tipo. Questo è il motivo per cui bisogna accelerare, fare presto, parlarne tutti insieme e decidere cosa fare, fare una legislazione, una normativa a livello internazionale in modo che si decida che cosa fare e cosa non fare. Questo per esempio è una proposta che è stata fatta qualche mese fa da Nature per darvi l'idea dell'importanza della cosa, dove addirittura è già stata accolta questa proposta dalle Nazioni Unite e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di istituire un grande panel internazionale, un po' come sul modello dell'IPCC, sapete il panel che si occupa del climate change, del riscaldamento climatico, sul gene editing. E quindi lo stanno allestendo adesso, parteciperanno tutti i rappresentanti di tutti i governi del mondo, di tutte le istituzioni scientifiche e si comincerà a discutere a livello mondiale su cosa vogliamo fare e cosa non vogliamo fare con il gene editing. Perché è una tecnologia, si dice, dual use, no? Che in inglese vuol dire una cosa semplice, vuol dire che la puoi usare per delle cose bellissime, come per esempio curare la leucemia o la distrofia e così via, ma puoi anche usarla per cose molto discutibili e controverse, come fare nascere dei bambini geneticamente modificati. L'altro esempio che è in dibattimento adesso in Unione Europea è se le piante modificate con questa tecnologia debbano essere considerate o meno al pari degli OGM, cioè come organismi geneticamente modificati. Sono tecnologie molto diverse, ripeto, perché non c'è introduzione di sequenze strane, ma c'è una modificazione diretta della pianta nel punto che tu vuoi correggere. Se ne sta discutendo, la discussione è ancora aperta a livello europeo. Ok, adesso veniamo al caso che vorrei invece discutere con voi, perché voglio sapere cosa ne pensate voi. Perché? Allora, già qui la domanda è chiara, no? Se ve la pongo così la risposta è sì, giusto? Infatti, soprattutto la zanzara tigre in pianura padana, cioè da noi, che è una specie invasiva, non c'era prima qua, e ce l'abbiamo portata noi qua in pianura padana ed è così ben adattata, per cui i miei figli non possono più stare in giardino se non faccio la disinfestazione ogni 15 giorni, perché la pianura padana ormai è una zona quasi subtropicale, giusto? Ormai il Mediterraneo è considerato a tutti gli effetti un mare subtropicale. Quindi è normale tutto quello che sta succedendo. Ma qual è il punto? Tanto questo riguarda proprio anche la mia università, perché noi adesso a Padova siamo proprio una università di punta per questa tecnologia, nel senso che il massimo esperto di questa tecnologia che vi spiego adesso è proprio, si è trasferito a Padova e sta lavorando a Padova. Cosa consiste? È una scoperta geniale questa ed è una delle tante applicazioni, di quel gene editing che vi ho appena spiegato. Come vi ho detto noi possiamo modificare geneticamente gli animali, ma giustamente qualche anno fa è venuto in mente a qualcuno che potremmo fare una cosa ancora diversa. Potremmo per esempio usare, simulare, quello che in natura si chiama gene drive. La faccio semplice, cos'è il gene drive? È un acceleratore molecolare. Sono delle sequenze genetiche che disobbediscono le leggi di Mendel, quelle che avete studiato tutti a scuola. Conoscete le leggi di Mendel, vi ricordate le proporzioni, allele dominanti, recessivi. Queste sono delle sequenze genetiche che tutte le volte che c'è la ricombinazione, l'accoppiamento, e quindi nasce una cellula, c'è una cellula fecondata che poi dà origine a un individuo. Che cosa succede? Saltano sull'altro cromosoma e si impongono anche sull'altra variante, quindi si sdoppiano sull'altra variante, sull'altro allele. Quindi il risultato qual è? Che alla fine, molto velocemente, tutti i figli nelle generazioni successive acquisiscono quella caratteristica. Sono delle sequenze egoiste, sono degli acceleratori molecolari. Allora, cosa hanno scoperto i miei colleghi? Che con il gene editing io posso inserire dentro, per esempio, le zanzare, delle sequenze che fanno il gene drive, cioè che dopo poche generazioni tutti gli organismi hanno, tutti i figli dei figli e figli hanno. Avrete già capito, se io per esempio inserisco dentro una sequenza egoista con il gene drive che fa sì che, per esempio, tutte le femmine, che sapete, le femmine delle zanzare in Africa, tipo l'anofeles gambia e così via, sono le portatrici della malaria, perché sono quelle che si portano dietro il plasmodio, che è questo protista, questo microorganismo che produce, questo parassita, che dà la malaria. Allora, se io per esempio facessi nascere a ogni generazione, qui guardate il colore rosso, delle femmine che sono sterili, oppure che tutte le volte che si accoppiano con un maschio, il maschio gli passa una caratteristica genetica per cui gli distrugge il cromosoma X e quindi vengono fuori tutti i maschi. Il risultato, e si può fare questa cosa, e la stanno sperimentando, il risultato qual è? Che nel giro di pochissime generazioni estinguo la popolazione, perché se le femmine diventano tutte sterili o se nascono tutti i maschi, la popolazione si estingue. Quindi con questa tecnica, che si chiama gene drive, io posso per la prima volta, se voglio, estinguere una popolazione in natura. Modifico degli animali, in questo caso degli invertebrati, li rilascio, li faccio accoppiare con degli altri e tutte le volte che si accoppiano la femmina sterilizza il maschio o viceversa, oppure nascono tutti i maschi e alla fine la popolazione si estingue. Anche questa è una novità, nel senso che non avevamo mai avuto prima una tecnologia che ci permettesse di estinguere intenzionalmente e molto velocemente una popolazione biologica. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo lo sappiamo, la malaria ogni anno fa più di 400.000 morti, la maggioranza dei quali bambini, in varie parti del mondo. Con l'applicazione di questa tecnologia noi potremmo estinguere in particolare le popolazioni di zanzara che trasmettono il plasmodo e quindi sconfiggeremmo una volta per tutte questo flagello. Qui va bene la stessa tecnologia, la stessa cosa. Lo vogliamo fare o no? Allora, innanzitutto possiamo farlo in diversi modi e entro solo in qualche dettaglio ma solo per farvi capire poi, anche perché poi vi faccio votare e mi direte voi cosa volete fare o no. Allora, io posso, come dire, modificare queste zanzare che portano la malaria in vari modi. Posso, come vi ho detto, ridurre la fertilità femminile disattivando i geni che sono coinvolti nella produzione delle uova, per esempio. Oppure le rendo incapaci di accoppiarsi, distruggo il loro cromosoma X e nascono tutti i maschi. Queste sono due soluzioni drastiche, ok? E sono le due che stiamo sperimentando adesso che sono quelle più veloci. La terza invece è un po' più soft, cioè non estingo la zanzara ma la rendo immune al plasmodio. Questa è soltanto una soluzione teorica perché purtroppo non siamo ancora capaci di farla, però diciamo che potrebbe portare allo sviluppo di zanzare geneticamente modificate, non le estingo, ma le modifico geneticamente in modo che non portino più la malaria. I primi due si chiamano gene drive di soppressione e il terzo di sostituzione. Gli scienziati preferiscono i primi due perché sono più veloci ed essendo più veloci ci sono meno rischi che si sviluppino delle zanzare resistenti a questa tecnologia. I costi sono accettabili e vi dico, lo stato attuale della ricerca stanno sperimentando questa tecnologia in serra, cioè in un ambiente controllato, stanno cominciando a rilasciare queste zanzare geneticamente modificate e a vedere che cosa succede. Quindi ormai siamo in uno stadio molto avanzato, ancora pochi anni di ricerca e saremo pronti, se vorremmo, a farlo, cioè a rilasciarle veramente. Ce la sentiamo? Allora sì e no. Ovviamente se uno pensa a 400.000 vittime e alla soluzione di un flagello di questo tipo umano, sì, subito. Però ci sono molte cautele che ovviamente dobbiamo considerare, dobbiamo prendere in considerazione. Primo perché non abbiamo mai fatto una roba del genere. Allora la prima cautela ovviamente è quali effetti ecologici magari non intenzionali potrebbero esserci. Per esempio potrebbe succedere che io modifico questa popolazione di zanzare, però potrebbe succedere che loro passano questa caratteristica a un'altra popolazione per trasferimento orizzontale. Può succedere negli invertebrati e quindi alla fine la situazione va fuori controllo, perché io non estingo solo quella popolazione lì, ma anche delle altre. Oppure potrebbe saltar fuori, può anche succedere sempre perché tutti gli animali, gli organismi cambiano, evolvono. Potrebbe saltar fuori una zanzara che impara a disobbedire a questo gene drive, che diventa resistente e a questo punto diventa una super zanzara, perché a questo punto sarebbe una zanzara estremamente potente, generata da noi come effetto collaterale, che potrebbe continuare a portare la malaria ed essere resistente a questa tecnologia. Ecco perché si tenta di fare un'operazione molto veloce, no? Si chiama come quando prendete gli antibiotici, dovete prenderli giusti, nei tempi giusti e molto velocemente, in modo da fare l'effetto killer, perché se siete troppo lenti si sviluppa resistenza e diventa molto pericoloso. Stessa questione. Poi c'è l'impatto ecologico, perché le zanzare sono mangiate da qualcuno, hanno dei predatori, sono delle prede, sono cibo per altri animali e quindi io vado ad alterare la catena alimentare, anche se nel caso delle zanzare tigre sono specie invasive, quindi fino a qualche anno fa non se ne mangiava nessuno perché non c'erano, giusto? Quindi così capite già che io sulla zanzara tigre sarei favorevolissimo alla pubblicazione, ma questa è un'altra questione. Poi c'è il fatto che questa tecnologia riduce la variabilità genetica, altra cosa pericolosa, discutiamola, perché rende le popolazioni più omogenee geneticamente, questa non è mai una buona cosa e quindi ci vogliono molte cautele se vogliamo farlo o meno. Questo per esempio è un articolo che se qualcuno fosse interessato spiega tutti i principi per una ricerca responsabile nell'applicazione del gene drive. Questo è il grande progetto internazionale pagato dal Melinda and Bill Gates Foundation, sono ricchissimi, sono uno dei principali charity internazionali, danno un sacco di soldi per la ricerca scientifica e hanno un apposito progetto che si chiama Target Malaria, qui trovate anche il loro sito web, potete vedere quello che fanno, dove stanno lavorando e Bill Gates e Melinda Gates hanno deciso di finanziare il gene drive, quindi hanno dato un sacco di soldi, la tecnologia si farà, ci sarà e poi bisognerà decidere come, se e come usarla. Altra novità importante, intanto decidete se volete estinguere o meno le zanzare, dipende da che sensibilità ecologica o umana avete, però intanto la ricerca va avanti e oggi sappiamo che questo gene drive si può applicare non soltanto alle zanzare, che sono degli invertebrati e hanno delle generazioni veloci, molto rapide, con le schiuse delle uova, sapete, molto veloci, ma si può applicare anche ai vertebrati e anche ai mammiferi e funziona, nel senso che si potrebbero, questo non siamo ancora pronti per farlo, lo sappiamo che si può fare a livello teorico, sono stati fatti alcuni esperimenti, ma non è stato ancora fatto, non siamo ancora a livello di applicazioni in serra come con le zanzare, però si potrebbero per esempio modificare geneticamente dei ratti, rilasciarli in natura e ogni volta che il ratto maschio si accoppia con la femmina, la sterilizza e quindi c'è l'estinzione della popolazione. Voi dite, ma perché? Beh, per esempio ci sono isole, ma ci sono centinaia di esempi, questo è quello su cui vorrebbero concentrarsi come primo esperimento, questa è l'isola di Floreana, che è un'isola meravigliosa delle Galapagos, patrimonio UNESCO, è un'isola meravigliosa con una fauna endemica ricchissima, che sta per essere sterminata ed è in crollo, perché sono riuscite a eradicare le capre e gli asini in selvatichiti che avevano portato a un disastro come specie invasive, ma non sono ancora riuscite a eradicare i ratti che sono stati portati dalle navi, sono delle specie invasive, mangiano le uova degli uccelli, distruggono l'ambiente e stanno portando all'estinzione decine di specie animali e vegetali su quelle isole. Quindi cosa sta succedendo? Che su queste isole si stanno facendo dei programmi di disinfestazione, come si fa normalmente con i ratticidi e con il veleno e in particolare su quest'isola si sta progettando di disseminarla con 400 tonnellate di veleno in modo da far fuori tutti i ratti. Il problema qual è? Che in progetti di questo tipo, ecco i ratti lo sapete bene, chi di voi è nato in campagna se lo ricorderà bene, io sì, con i ratti e con i topi, con gli eruditori in generale, se tu ne eradichi il 99% è come se non avessi fatto niente, perché dall'1% in poco tempo, basta che sopravvivano due o tre coppie nascoste in un granaio, la popolazione riparte subito. Quindi i progetti di eradicazione di questi eruditori sono difficilissimi, è difficilissimo che funzioni. E poi sapete che distribuire tutto questo veleno ha un impatto ecologico devastante. L'isola deve essere completamente spopolata per mesi, bisogna portare via tutti i bambini, tutta la popolazione, tutti gli animali domestici, poi arrivano con gli elicotteri, buttano giù tutte queste pallettine di veleno, insomma un disastro. E allora gli abitanti di Floreana, peraltro, quindi loro hanno deciso questa cosa, quando gli è stato detto che con il gene drive si potrebbero buttare su quest'isola anche solo pochi ratti geneticamente modificati e nel giro di poche generazioni sarebbero estinti tutti i ratti, hanno deciso di sì. E quindi loro lo vogliono fare questa cosa. E quindi, di intesa con gli scienziati del parco, sono intenzionati a provare per la prima volta il gene drive, cioè l'estinzione di una specie in natura per via genetica. Ovviamente anche qua i punti domanda sono giganteschi. Faccio un esempio, se uno di quei ratti geneticamente modificati dovesse saltare su una nave, uscire dall'isola e andare sulla terraferma o su un'altra isola, hai voglia, perché a quel punto inizia ad accoppiarsi con altri ratti e il gene drive comincia a funzionare anche con popolazioni di ratti fuori dall'isola. Questo potrebbe essere sì un grosso disastro. E quindi come facciamo a controllare questa tecnologia? Qualcuno dice usiamola solo con delle marcatori genetici che funzionano soltanto con i ratti di quest'isola e non con i ratti fuori dall'isola. In quel caso sarebbe un po' più accettabile, però lo vogliamo fare. Allora, io non vi dico come la penso, insomma in questo caso qua io ho molti dubbi. Nel caso delle zanzare parliamone, per esempio, una possibilità potrebbe essere di dire ok, proviamo a fare questa cosa soltanto se voi scienziati trovate l'antidoto. Cioè se per caso dovesse andare storto qualcosa c'è un modo per tornare indietro, per fare un processo reversibile. Ok? Allora in questo caso già sarebbe un pochino più rassicurante la cosa. Altrimenti è molto controversa come cosa, è molto rischiosa. Però anche questa è un'ecologia nuova che prima non c'era e che adesso abbiamo. Quindi dobbiamo decidere tutti insieme e su questo poi magari dico due cose alla fine e basta. Cioè chi decide, come decide, ovviamente questa è la cosa che abbiamo detto, quindi chi decide, con quali cautele, con quali effetti non intenzionali da calcolare e così via. L'ultimo esempio che vi faccio è questo e così vi angoscio definitivamente per questa sera. Allora, vi avevo detto che forse vi pentivate di essere venuti a questa conferenza, però dovete saperle queste cose così decidiamo poi tutti insieme. Altro punto, vi ricordate, quanto sappiamo di ciò che stiamo per manipolare? Vi faccio qui soltanto un esempio molto semplice perché è il più chiaro di tutti. Questa è una ricerca eccezionale, veramente questa sembrava fantascienza. Se me l'avessero detto quando facevo i corsi su queste cose cinque anni fa avrei detto che non era possibile e invece ci sono riusciti. Cosa hanno fatto? Sono riusciti a coltivare in laboratorio questo batterio che vedete qui in questa foto, si chiama SIN 3.0 e già dal nome capite che è un batterio che non esiste in natura, è un batterio sintetico, nel senso che cosa hanno fatto gli scienziati? Questo hanno fatto in California, è stato pubblicato su Science 2 anni fa, 3 anni fa ormai. Hanno preso il genoma di un batterio intestinale, molto semplice, un micoplasma, è un organismo che ha circa mille geni e hanno fatto la sequenza dentro il computer, come se fosse sul mio computer qua, tutti i numerini, tutte le letterine. Poi da questa sequenza hanno sintetizzato in laboratorio il DNA, quindi hanno fatto proprio base per base, chimicamente, il genoma. Quindi prima la sequenza nel computer, poi in laboratorio hanno costruito proprio, hanno sintetizzato questo genoma sintetico, un genoma molto semplice, circolare. E fin qua, ok, questo è un bellissimo risultato di ingegneria genetica, ok. La cosa incredibile, poi cosa hanno fatto? Hanno preso una cellula vera di un vero batterio intestinale, l'hanno presa, gli hanno tolto il suo genoma naturale, hanno preso quello che avevano sintetizzato in laboratorio, gliel'hanno messo dentro e questa cellula è vissuta, è sopravvissuta e ha cominciato a obbedire al genoma sintetico che gli era stato messo dentro. Quindi questo organismo qua è un organismo che obbedisce a un DNA che gli abbiamo messo dentro noi dopo averlo sintetizzato in laboratorio a partire dal computer. Quindi il cyborg di cui abbiamo parlato tanto nella fantascienza, adesso c'è. Questo è un cyborg a tutti gli effetti, perché è un organismo vivente, è una cellula, ma che obbedisce a un DNA sintetico che io gli ho messo dentro. Gli ho tolto il suo e gli hanno messo dentro un altro. Qui si aprono scenari ovviamente, perché a questo punto io posso giocare con questa tecnologia. Per esempio posso prendere quel DNA che gli ho messo dentro, togliere tutte le parti che non servono a niente, quindi ridurlo al minimo e vedere fino a quando sopravvive. E questo è proprio il caso di SYN 3.0. Si chiama organismo minimale, perché è l'organismo con il DNA più corto, è fatto soltanto di 453 geni, sopravvive, maluccio, perché non è proprio in gran forma, però sopravvive, e avrete capito cosa vogliono fare adesso. Qui c'è dietro un grosso business proprio economico, perché adesso che hanno ottenuto questo risultato ci aggiungono i geni che vogliono, cercando di ammaestrare questo batterio per fargli fare quello che vogliamo noi. Per esempio per sintetizzare l'insulina, per sintetizzare i vaccini, per fare nuovi farmaci, per fare biocombustibili, per digerire l'anidride carbonica, c'è qualcuno che dice addirittura per digerire il particolato in atmosfera, quindi combattere l'inquinamento, per mangiare idrocarburi, insomma potremmo fargli fare un sacco di cose. Parentesi, si tratta però sempre di rilasciare questi organismi, che può essere molto rischioso ovviamente, quindi pensiamoci prima di farlo. Questo è il signore che ha ottenuto questo risultato, quindi la cellula batterica sintetica che si autoreplica. Però non è questo tanto quello di cui voglio parlare, in realtà è questo dato qua impressionante, di cui nessuno ha parlato. Quando è uscito questo risultato, qui vedete, vabbè è una chart un po' difficile, ma insomma la faccio semplice. Si è scoperto che di questo qua è l'organismo, ripeto, con la quantità di geni più piccola, che non esiste in natura un organismo così minimale, ok? Bene, c'ha soltanto 473 geni. Di quei 473, 149 non sappiamo che cosa facciano. Nel senso che 149, di questi 149, se tu gliene tiri fuori uno, anche solo uno di questi 149, la cellula muore immediatamente. Quindi vuol dire che fa qualcosa di importantissimo per la cellula, giusto? Ed è la cellula più di base possibile. Eppure non sappiamo cosa fa. Quindi pensate, addirittura nel genoma più semplice che c'è, quasi un terzo di tutto quello che c'è dentro, io non so che cosa fa. Questo vi dà una contezza, una consapevolezza plastica del grado di ignoranza che ancora abbiamo sul genoma. Noi sappiamo ancora pochissimo del genoma. E tra l'altro è una scoperta scientifica importantissima questa, perché adesso andranno a vedere, lo stanno già facendo. Cosa fanno questi 149 geni? E sicuramente scopriranno qualcosa di importantissimo, perché sicuramente fanno cose, cioè hanno vie metaboliche o comunque dei patogenetici molto importanti, magari legati a alcuni aspetti fisiologici e quindi legati alla malattia se alterati. Quindi sicuramente ci sono un sacco di scoperte da fare dentro qua. Però intanto è proprio un'evidenza della nostra ignoranza e quindi del senso di responsabilità che dobbiamo avere. Perché se io vado a modificare un sistema di cui non conosco un terzo di quello che fa, è pericoloso, nel senso che sicuramente, quasi sicuramente, se io vado a toccare un punto, devo aspettarmi degli effetti collaterali imprevisti. Perché? Perché non so quali sono tutte le connessioni dentro quella rete. È come se voi stesse giocando con un puzzle, avete presente i puzzle, con tutte le tessere. State mettendo insieme le tessere del puzzle. Però in realtà ogni tessera è legata con dei fili ad altre tessere. Quindi se io ne tiro fuori una, perché penso di guarire una malattia, la tiro fuori. Ma in realtà è possibile che io vada a toccarne qualcun'altra che non so. Perché appunto è una questione di ignoranza. Ancora non conosco bene tutto il sistema. Qui c'è ancora un sacco di lavoro da fare prima di allegramente andare a modificarlo in modo poco responsabile. Ok? E questa è un'altra famosa copertina dell'Economist dopo che è uscita questa scoperta. Appunto ovviamente subito hanno detto l'uomo ha rifatto la vita per la prima volta. L'ultimo esempio che vi faccio, giuro, e poi lascio la parola ad Alberto e nostri ospiti, ed è l'ultimo esempio che voglio farvi, è questo. Perché questo è il più radicale di tutti. Vi fa capire che c'è un problema proprio anche nel metodo scientifico oggi che dobbiamo affrontare. E questo riguarda i virus. Perché? Sapete, i virus sono degli organismi potenziali, perché non sappiamo nemmeno se siano vivi o meno, no? Perché sono vivi solo se sono dentro un'altra cellula di un organismo. Sono dei parassiti naturali e non sono autonomi. Li conosciamo molto bene. Come disse una volta Peter Medowar, un virus è una cattiva notizia circondata da una proteina. Ok? È una cattiva notizia perché quasi sempre fanno male, ma non necessariamente. E noi adesso li possiamo modificare. E questo è un signore, un bravissimo virologo, che lavora a Rotterdam, olandese. La stessa cosa è stata fatta anche negli Stati Uniti e in Giappone. La faccio breve. Voi sapete, tra l'altro se ne discute proprio in queste settimane, è stato annunciato che anche quest'anno dovrebbe arrivare un ceppo di influenza molto aggressivo, no? Ci è già detto, già farà milioni di casi, insomma, già ci stanno facendo preoccupare, stanno lavorando al vaccino. Ma ci sono altri casi di pandemie, come quelle della viaria, per esempio. Adesso è un po' che non salta fuori, ma ve lo ricordate, no? L'H5N1, l'H5N9, sono dei ceppi virali che diventano pericolosi perché passano da altri animali a noi, per esempio dagli uccelli a noi, così come la suina passa dai suini a noi, no? Quando i virus fanno lo spillover, cioè fanno il salto di specie, diventano pericolosi perché mutano e possono diventare molto aggressivi. Allora, l'influenza aviaria, che ogni tanto salta fuori, fa alcune centinaia di vittime, però una volta che salta fuori, di solito intervenendo rapidamente e recintando, bloccando i focolai, si riesce a controllarla. Perché? Perché si trasmette soltanto con il contatto diretto, con il contatto di liquidi corporei e quindi ci aiuta perché se io evito il contatto, rapidamente dovrei riuscire a bloccarla. Però che cosa è stato scoperto, cosa si è sospettato già da un po'? Che possa saltar fuori in natura un virus della aviaria che passando agli umani, ai mammiferi, possa trasmettersi per via aerea, cioè con uno starnuto. Immaginatevi cosa succederebbe. Uno se la becca facendo un viaggio in Cina o in Vietnam sale su un aereo, fa uno starnuto e dall'aereo scendono il 60% circa di contagiati sicuri. Allora, un virus della aviaria così sarebbe molto pericoloso. Allora state attenti al ragionamento che è stato fatto. Questo qui, Ron Fugger e altri, hanno detto proviamo noi in laboratorio a modificare l'H5N1 in modo da renderlo trasmissibile per via aerea nei mammiferi. Perché se noi riusciamo a capire quali sono le mutazioni che devono intervenire perché avvenga questo cambiamento, possiamo giocare d'anticipo e fare un vaccino preventivo in modo che quando mai dovesse saltar fuori questa variante siamo già pronti. Quindi ottime intenzioni. E infatti confermano questa cosa perché scoprono che bastano quattro mutazioni, che sono veramente poche nei virus, per trasformare l'H5N1 da trasmissibile soltanto per liquidi corporei, per contatto corporeo, a trasmissibile per via aerea. Quindi il pericolo c'è. Cioè veramente potrebbe saltar fuori un virus così pericoloso. Allora vanno avanti e lo fanno. Cioè sperimentano sui furetti, fanno una versione depotenziata, quindi gli animali non muoiono, non soffrono perché è un virus depotenziato, cominciano a farlo passare da furetto a furetto tante volte con questi modelli animali, finché un bel giorno salta fuori il virus H5N1 mutato. Cioè un virus della viaria che si passa da furetto a furetto e quindi anche da uomo a uomo, da mammifero a mammifero, con uno starnuto, cioè per via aerea. Perché l'hanno fatto, ripeto, per poi studiarlo e trovare un vaccino, le cure, eccetera, eccetera. Quindi le migliori intenzioni. Ma l'inferno è lastricato, no? Dalle migliori intenzioni, giusto? Qual è l'effetto collaterale di cui non avevano tenuto conto? Che nella scienza bisogna essere trasparenti. Quindi se vuoi pubblicare un articolo devi dire tutto quello che hai fatto, come lo hai fatto e devi fare in modo che qualcun altro possa rifarlo. Questa è proprio una regola fondamentale della scienza, altrimenti non sei uno scienziato. Se uno scienziato vi dice, no, io tengo segreti i miei dati, non è uno scienziato. D'accordo? Perché deve metterli in condivisione, rendere ripetibile l'esperimento. E allora Fuccia e altri hanno pubblicato un articolo su Science, giustamente, dove hanno detto, sapete, l'H5N1 bastano queste quattro mutazioni per renderlo un virus letale trasmissibile per via aerea. Questa, questa, questa e questa. Quindi hanno pubblicato le istruzioni per fare un'arma di distruzione di massa. Giusto? Dual use, cioè le migliori intenzioni hanno portato, seguendo esattamente le regole della scienza, a pubblicare delle informazioni sensibili, molto sensibili. Tant'è vero che Ron Fuccia è stato incriminato dall'Agenzia per la Sicurezza Nazionale statunitense. Ci sono un po' innervositi perché hanno detto, ma come? Come vi permettete di pubblicare dei dati che possano essere utilizzati come arma di distruzione di massa? C'è ancora un processo in corso. Alla fine il Tribunale olandese ha deciso una cosa soft, cioè d'ora in poi, tutte le volte che vengono pubblicate informazioni di questo tipo, devono essere prima vagliate dall'agenzia statale e poi nel caso pubblicate su una banca dati iperprotetta, in modo che soltanto alcuni ricercatori tracciabili possano accedere a quelle informazioni. Ma sono tutti palliativi, no? Perché nella scienza poi quando le informazioni girano, poi ce le hanno tutti, basta che la prenda uno e poi è molto difficile controllare come queste informazioni girano. Il risultato quindi è appunto all'inizio, c'è stata una grandissima preoccupazione, non sappiamo bene come risolvere questo problema, perché non c'è una soluzione nota nella comunità scientifica, se non quella di decidere a priori di non farle queste cose. Ok? Quella potrebbe essere una soluzione radicale, cioè di non lavorare mai sull'ingegnerizzazione dei virus, però diventa più difficile poi combatterli quando saltano fuori veramente, ma si possono trovare altre strategie, non è indispensabile. Quindi questo è un esempio classico di quella che viene chiamata proprio rapporto science and society, no? Cioè qual è la responsabilità dello scienziato che ha per le mani delle tecnologie molto potenti, tecnologie dual use, che possono essere usate per fini benefici straordinari, ma anche per fini malefici straordinari. Tenendo presente anche che oggi il quadro geopolitico è molto diverso che in passato, no? In passato c'erano due superpotenze che si equilibravano, c'era una strategia della deterrenza, della dissuasione. Adesso queste tecnologie costano molto di meno e sono accessibili a molti stati, anche a potenze regionali. Per esempio l'Arabia Saudita e l'Iran stanno investendo un sacco di petrodollari in biotecnologie come queste. Ci fidiamo? Ci piace questa cosa? Chi li controlla? Perché lo fanno? Chi può avere il potere di controllare cosa stanno facendo? Quindi noi europei siamo molto virtuosi, abbiamo delle normative molto severe, controlliamo tutto, ma in altre parti del mondo non è così e quindi si crea addirittura una concorrenza sleale, no? Perché io in Europa non posso fare certe cose, ma le fa il mio collega coreano e allora che effetto fa? Non è giusto questo da un certo punto di vista, però nemmeno farle tutte senza controllo è giusto. Quindi chi e come si può decidere? E quindi le domande un po' filosofiche che io lascio è, ovviamente, quale pensiero filosofico bioetico per queste ricerche? Che vedete che cambiano profondamente il modo di intendere anche la vita umana, no? Embrioni umane geneticamente modificati. Sembra un incubo di certe distopie del passato, ma adesso possiamo farlo volendo e non è detto che sia sempre necessariamente un incubo, non voglio radicalizzare. altro grande tema è quello economico e geopolitico. Chi avrà accesso a queste biotecnologie? Sono potentissime, costano di meno, però ci vogliono comunque dei soldi per implementarle, per fare tutti i trial. Quindi chi potrà accedere a queste biotecnologie? Io e molti altri pensiamo che queste biotecnologie, però questo è il nostro punto di vista, siano diventate così potenti, così promettenti, ma anche così rischiose, che non possano essere privatizzabili, nel senso che possono essere brevettate solo per applicazioni specifiche, ma la tecnologia in sé deve rimanere pubblica, perché soltanto un'istituzione pubblica può avere l'autorità per controllare davvero tutto quello che stanno facendo i vari laboratori nel mondo, però questa, ripeto, è una mia posizione. Quindi considerare le biotecnologie del futuro come dei beni comuni, non mai completamente privatizzabili, solo nella gestione, ma mai nella proprietà delle biotecnologie. E poi grande domanda per la quale io non ho una risposta, chi decide? Cioè gli embrioni umani possono essere modificati prima di essere impiantati? Geneticamente modificati prima di essere impiantati? Sì? No? Chi decide? E una volta che abbiamo deciso, chi impone questa decisione alla Corea del Nord, o alla Cina, o a paesi che possono benissimo infischiarsene di questa indicazione? Quindi ci vogliono delle nuove regole del gioco, democratiche ovviamente, per stabilire dei limiti e utilizzare queste biotecnologie per il bene davvero dell'umanità, che è il vero, come dire, obiettivo di tutta la ricerca, dovrebbe essere di tutta la ricerca scientifica. E in più, ma anche questa è una mia visione un po' autopistica, però non è solo mia, ce l'hanno in tanti. Io penso che biotecnologie così potenti debbano essere sottratte per principio a qualsiasi uso bellico, cioè debbano essere sottratte a qualsiasi possibilità di utilizzo in ambito bellico. Molti grandi istituzioni hanno deciso così. Il Politecnico di Berlino, per esempio, ha nel suo statuto che chiunque lavori all'interno di quella istituzione universitaria, ma anche noi ce l'abbiamo, non può per statuto, appena essere espulso dall'istituzione, applicare quello che sta studiando per fini bellici. Quindi in questo caso è scritto proprio nello statuto di un'istituzione. Ovviamente è molto ingenuo questo, lo so, perché invece è molto plausibile che verrà utilizzato anche per fini bellici, però è comunque bene cominciare a parlarne. Spero quindi di non avervi angosciato troppo. La prossima volta che torno ricomincerò a parlare di migrazioni umane, che forse è più tranquillo, però ripeto, di queste cose sentirete parlare sui giornali. Quello che non deve succedere, secondo me, è che voi leggiate sui giornali o sentiate al telegiornale la notizia di per sé, vi facciate trovare impreparati e vi spaventiate in quanto tali. Queste cose adesso vanno studiate a scuola, dobbiamo sapere cosa fare e democraticamente decidere dove fermarci, perché nessuno sostiene che tutto quello che si può fare si deve fare, non l'ha mai sostenuto nessuno. Ma è difficile stabilire il confine, cioè dire questo lo facciamo e questo non lo facciamo. Quindi dobbiamo essere tutti preparati e decidere tutti insieme, prima o poi, che cosa fare, con una buona filosofia e una buona preparazione etica che in Italia tutto sommato abbiamo. Con questo vi ringrazio.